31 dicembre 1908, nasce Simon Wiesenthal, sopravvissuto alla Shoah, nel corso della sua vita contribuisce alla cattura di circa 1100 criminali di guerra nazisti. Nel 1947 fonda il Centro Documentazione Storica Ebraica all'Inz. Grazie alla sua caparbietà riesce a far catturare dagli 007 israeliani il cittadino argentino Riccardo Clement, in realtà Adolf Eichmann. Da quel momento Wiesenthal è per tutti il cacciatore di nazisti. Muore a Vienna nel 2005. Quando decise che avrebbe dedicato la sua vita,